E' l'ultima in una catena di reazioni che hanno permesso di concretizzare questo progetto di ciclabilità di Como ciclabile che abbiamo preso da molto molto lontana. Non vi faccio tutta la premistoria però quando siamo arrivati come amministrazione nel 2012 ci siamo attivati perché a partire dal piano regionale posso includere la città di Como nella rete ciclabile, nella rete dei percorsi ciclabili regionali e che fosse effettivamente progettato il percorso cittadino urbano. Non tralascio i particolari però la pianificazione Comasca era talmente carente su questo aspetto che addirittura si inserivano nei piani regionali percorsi praticamente realizzabili o comunque di poco interesse per la mobilità urbana perché per come l'abbiamo intesa dall'inizio la ciclabilità non è solo quella cosa che fanno gli sportivi alla domenica o i tedeschi in vacanza quando vengono a visitare l'agricomo ma per noi la mobilità in bicicletta è una validissima soluzione per gli spostamenti urbani. Grazie. Grazie a tutti.